Lo scuolo ha fatto entrare Steven Spielberg nell'Olimpo di Hollywood, ma è vero che dietro alla costruzione del film c'è una storia vera? 470 milioni di dollari di incasso per un film uscito in estate. Lo scuolo è stato il primo blockbuster estivo ad essere lanciato in tv con il trailer e presentato quindi nella tv pubblica nazionale. Questo ha fatto la storia e cambiato completamente il modo di fare marketing, ma l'idea originale di Steven Spielberg da dove è stata presa? Ricordiamo che Lo scuolo di Steven Spielberg è tratto dal romanzo di Peter Benkley e come sappiamo racconta l'arrivo dello scuolo nelle spiagge di una cittadina inventata che comincia a divorare gente a caso da bambini a donne a uomini, ma l'idea del romanzo è incredibilmente presa da una storia reale. Lo stesso scrittore ha partecipato alla sceneggiatura della pellicola in quanto lui stesso ha preso ispirazione per il suo racconto da una storia realmente accaduta. Era il 1916. Tutto cominciò con Charles Van Sant. L'uomo fu mutilato da uno squalo pochi chilometri vicino all'hotel a Beach Haven in New Jersey. L'animale gli strappò così gli arti con un morso, causandone in poco tempo la morte per dissanguamento. La notizia fece il giro della costa ma fu dimenticata in fretta, almeno fino a quando non ci fu un'altra vittima. A Spring Lake, a pochi chilometri di distanza dal primo attacco, Charles Bruder morì in seguito alla perdita di entrambe le gampe dopo il morso di uno squalo. Ed è già incredibile così perché l'attacco di uno squalo è di per sé raro, non è così frequente come ci vogliono far credere perché gli squali non sempre attaccano gli uomani, soprattutto vicino alla costa appunto. Per questo era difficile credere che lo squalo sia ispirato a una storia vera. Ma non è finita qui perché la storia si infittisce ed ha ancora più dell'incredibile. Infatti un bambino di 11 anni, Lester Stilwell, fu trascinato a fondo da uno squalo nel Matawan Creek, vicino alla città di Kayport. Una cosa molto insolita visto che di solito, appunto, questi pesci non si trovano nei fumi. È stato inutile quindi il tentativo di salvarlo da parte di un altro ragazzo del posto, Watson Stanley Fisher. E entrambi, purtroppo, rimasero uccisi dall'agguato dello squalo. Lo stesso giorno, sempre lungo il fiume, fu attaccato un altro bambino, Joseph Dunn, l'unico a salvarsi. Il New Jersey era diventato improvvisamente un posto infernale. Nel tentativo di bloccare queste aggressioni, il fiume Matawan Creek fu riempito di reti e dinamite. Fu perfino messo una taglia sullo squalo, 100 dollari per l'uccisione dello stesso. Dopo questo annuncio, il governo stanziò ancora un'altra taglia sulla vita dell'animale per chi l'avesse ucciso. In questo modo, la caccia diventò ancora più grande. Ed infine, il 14 luglio 1916, finalmente l'incubo finì e lo squalo venne ucciso. A farlo fu il domatore di leoni, Michael Schleser. L'animale era lungo più di due metri dal peso di oltre 150 kg e al suo interno furono ritrovati appunto dei resti umani. Qui quindi abbiamo immediatamente trovato l'aggressore delle vittime, quindi il colpevole delle uccisioni che sono susseguite durante quel periodo. A differenza del film, il primo squalo catturato è stato quello corretto, ma nel film di Steven Spielberg, come sappiamo, nel primo squalo non erano presenti i resti umani, quindi hanno dovuto poi continuare la caccia. C'è un aneddoto particolare e molto probabilmente Spielberg prese ispirazione da questo aneddoto, perché Schleser raccontò che per poco lo squalo non affondò la sua barca mangiandone quasi la metà. E da qui la famosa battuta del film, ovvero serve una barca più grande. Quindi ragazzi, una curiosità veramente interessante che quando ho scoperto ho pensato immediatamente di raccontarvela, perché è evidente quanti film nascono dalle mezze verità o dalle verità, che poi rimangono comunque nascoste. 60 anni dopo, Spielberg fece di questa storia un colossal del cinema che ancora ad oggi ci portiamo nel cuore. E se ricordate bene, nel film c'è anche un riferimento di attacchi di squalo appunto nel 1916, come rimando a questa storia. Potevi andare a controllare. Ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito fin qui, io spero che vi sia piaciuta questa curiosità e questo racconto. Lasciate un commento, mettete un mi piace, e seguiteci sul nostro canale YouTube, Facebook e Instagram e ci sono tutti i link in descrizione qui sotto per seguirci e aspettare i nostri video e recensioni e news. Grazie a tutti da Valerio Perrone e da Ciacchiazioni.